Sono stata recentemente in Kenya e in Zambia. È stato un viaggio soprattutto di vicinanza nei confronti appunto di tutte le persone che lavorano a fianco dell'associazione Il Loco. È stato bellissimo rincontrare tante persone. Erano cinque anni che mancavo dal Kenya, quindi anche se sono stati pochissimi giorni, ma è stato davvero bello riabbracciare tante persone che in questi anni hanno continuato a lavorare a fianco dell'associazione perché noi chiaramente lavoriamo con tutto staff locale. Cuoche, fisioterapisti e insegnanti sono tutti locali guidati da un cooperante che è il nostro insomma collaboratore. Sicuramente le due più grandi novità sono appunto l'apertura di un centro professionale Tevita. È un centro di istruzione superiore che è aperto a giovani e anche adulti con disabilità e che lavorano appunto a fianco ad altri operatori. Imparano a fare tantissime attività pratiche e in particolare abbiamo aperto due sezioni che sono il settore agricoltura e settore allevamento. Sono due attività che garantiscono lavoro, quindi al termine di questo percorso professionale queste persone potranno appunto inserirsi nel mondo del lavoro. L'altro progetto è l'apertura del centro di maternità, però vederla con i miei occhi, vedere appunto la nascita di bambini al centro è davvero emozionante. Un luogo bello, sicuro, dove davvero la vita esplode in tutte le sue bellezze. E poi gli incontri anche istituzionali? Sì perché appunto soprattutto in Zambia ma anche in Kenya e in Tanzania noi lavoriamo a fianco delle istituzioni locali. Tutti i nostri progetti sono riconosciuti, il progetto dell'istruzione dal ministero dell'istruzione, i progetti che riguardano la salute appunto al ministero della salute. Quindi è un lavoro davvero di cooperazione, di a fianco a fianco lavorare insieme alle istituzioni diventa per noi fondamentale. Lo staff per esempio della clinica è interamente governativo, questo per noi garantisce anche sostenibilità nel futuro. Prossimi progetti? I progetti adesso sono lavorare qua, continuare nella sensibilizzazione, nella conoscenza dei nostri progetti e anche chiaramente la raccolta fondi. Inizia per noi il periodo del Natale quindi con tante iniziative quindi lancio come dire un messaggio di continuare a seguirci sulla nostra pagina social e nel nostro sito www.lafricachiamo.org dove ci sono tante modalità per continuare a sostenere i nostri progetti.